Non parlavamo di due vittorie consecutive dal 2021, lo abbiamo visto anche su Instagram e davvero parlare di una Samp che riesce a dare continuità è bellissimo, ne parliamo insieme un saluto a tutti gli amici del Corner Sampdoriano qui l'analisi Modena 0 Sampdoria 2, una Samp che vince e convince oggi lo possiamo dire veramente ad alta voce come al solito prima di cominciare pollice nel su iscrivetevi se i contenuti che portiamo vi piacciono ma adesso partiamo con l'analisi ragazzi io sono contentissimo perché abbiamo visto per la prima volta una Samp unita una Samp che in campo è riuscita davvero a capire come muoversi come comportarsi in tutte le dinamiche ho visto una Samp che è scesa in campo per la prima volta con due giocatori dietro ad un'unica punta questo assetto tattico anche nuovo davvero può essere rivisto, deve essere rivisto però davvero siamo veramente sulla buona strada abbiamo visto una prestazione unita come detto prima nel primo tempo il Modena sembrava essere sceso in maniera migliore in campo specialmente nei primi minuti un Modena al reinvaggio, un Modena che veniva da tre vittorie consecutive una squadra molto interessante di questa Serie B eppure la Samp è riuscita a vincere è riuscita ad uscire da questi momenti di difficoltà nella parte iniziale della partita ed è riuscita a contraattaccare con intelligenza con la palla di Iepes che innesca un De Luca che riesce a mettere in mezzo il pallone che vale l'1-0 firmato Sebastiano Esposito che trova la prima rete in blu cerchiato e parleremo di dopo delle prestazioni di Esposito e di De Luca due giocatori essenziali a parer mio soprattutto Esposito per il buon proseguimento della stagione poi dopo il vantaggio abbiamo visto una Samp che ci ha provato, ci ha riprovato con Kasami una botta notevole da fuori tante punizioni una Samp che è riuscita nel male e nel bene a tenere il pallone a tenere a distanza il Modena che ci ha provato negli ultimi minuti del primo tempo nella ripresa un Modena che parte forte con una ripartenza super parata di un Filip Stankovic informissima e poi il gol del 2-0 Kasami bellissima la palla l'intelligenza di vera di riconoscere il momento di analizzare la zona capire meglio non tirare passiamo da Kasami al limite bravissimo ottima realizzazione del numero 14 che avevo cerchiato che era la caccia del gol da un po' lo ha detto anche lui un giocatore essenziale a livello fisico a livello tattico e a livello tecnico per la Samp poi una punizione assurda di Sebastian Esposito qualche altra occasione una Samp che vince 2-0 in un campo difficile Modena che poi concluderà la partita in 10 uomini andiamo a vedere piano piano i giocatori perché questa volta abbiamo delle delle sufficienze piene a partire proprio da Filip Sankovic lo abbiamo detto anche nelle scorse settimane ne abbiamo avuto la riconferma per l'ennesima volta un portiere che sta crescendo veramente tanto un ragazzo che ha avuto anche bisogno di sbagliare all'inizio stagione lo abbiamo detto da Cremona è cambiato il suo modo di fare è cambiata la mentalità ed è cambiato il modo di giocare assolutamente un portiere che sta crescendo esponenzialmente per cui molto molto bene forse l'unico giocatore su cui ancora ho dei dubbi è De Paoli che comunque ha fatto una buona prestazione mi sembra un po' incerto a livello tecnico su alcune giocate però a livello tattico mi rendo conto che è essenziale così come l'è stato Facundo Gonzalez da quando è impiegato ha fatto sempre buona figura un difensore tosto fisico anche in grado di impostare dal basso abbiamo rivisto in qualche occasione anche la volontà di impostare dal basso quando si può quando si deve l'abbiamo fatto molto molto bene Gilardi occhio perché a fine primo tempo c'è un contatto in area di rigore dobbiamo evitare questi episodi mi rendo conto che era una sportellata un difensore comunque deve tenere l'attaccante lontano secondo me non è rigore però potresti trovare l'arbitro che lo fischia per cui occhio anche a questi contatti dubinari di rigore per il resto è una partita anche la sua piuttosto buona buona anche la partita di Giordano che ha dimostrato un forte attaccamento alla maglia una prestazione comunque di un ritmo piuttosto alto forse qualche incertezza di loro difensivo ma anche lui è un ragazzo giovane è un ragazzo samploriane di cui abbiamo parlato anche su Instagram per cui siamo molto contenti anche della sua crescita è entrato Barrega ma non possiamo dargli un voto possiamo dare un voto molto 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 positivo a Gerard Niepes che magari avevamo visto un po' incerto nelle scorse settimane io l'ho sempre difeso lo difendo ancora adesso e gli faccio i complimenti oggi per la prestazione di sabato un Niepes perfetto come al solito eleganza pulizia intelligenza perché è un ragazzo intelligente il pallone che dà De Luca è strepitoso la gestione del pallone e il movimento la copertura delle linee di passaggio è un calciatore che serve assolutamente alla samploria così come serve Kasami ragazzi io non mi capacito di come Kasami abbia potuto essere libero tutta l'estate è un giocatore che sia in condizione davvero è spettacolare lo abbiamo visto e lo stiamo vedendo lo stiamo continuando a vedere una crescita anche la sua esponenziale molto molto contento di questo mancino che ci regalerà speriamo ancora tante gioie vera anche la sua una prestazione molto positiva un ragazzo che da quando si è preso la fascia forse ha iniziato a è scattato qualcosa a livello mentale non lo so comunque una prestazione ottima un calciatore che è alternato qualità e quantità continua a farlo per cui molto molto bene molto bene anche Sebastiano Esposito oltre alla posizione oltre al gol un calciatore attivo sempre presente nel gioco disturba sempre gli avversari corre tantissimo per cui ottima ottima la sua prestazione a parer mio il migliore in campo c'è anche Morini che ha fatto una prestazione magari sotto tono ma a livello tattico corre tanto costere in gioco gli avversari a fare una giocata diversa da quella predefinita molto bene anche Morini secondo me sta crescendo veramente tanto secondo me è arrivato molto in ritardo di condizione non per i deneri di suoi ma un po' per l'età il campionato in cui si trovava adesso sta mettendo su il carburante necessario per andare 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 per cui buona la prestazione anche di Fabio Morini De Luca divide in due la tifoseria sono uno di quelli che crede che è un attaccante che ha serie difficoltà le ha avute ma la prestazione a Modena io voglio pensare che sia un punto d'inizio abbiamo visto un calciatore ancora in confusione col panone tra i piedi un calciatore che ha sbagliato qualche giocata ma sta imparando piano piano sta tornando piano piano al De Luca dei primi mesi è almeno è quello che mi auguro la prestazione di Modena secondo me è buona un giocatore che offre l'assist esposito un calciatore che fa salire la squadra fa sportellate per cui quello di cui abbiamo bisogno ed è stata la prima vittoria della Pirlo con questo chiudiamo il video perché Pirlo l'ha letta bene l'ha letta bene anche nel corso della partita che è quello di cui abbiamo bisogno per cui io sono molto contento di questa crescita del gruppo di questa crescita anche di Andrea Pirlo un gruppo unito lo ha detto anche Borini in conferenza a Telenord durante la settimana per cui speriamo che davvero questa crescita non si fermi perché i punti da recuperare sono tanti ma ad oggi mi sento fiducioso adesso la sosta prima della partita essenziale il derby Ligure contro lo Spezia per cui è importantissimo ricaricare le energie abbiamo analizzato benissimo questa partita pollicioni su commentate iscrivetevi assolutamente se i contenuti vi piacciono commentate perché vogliono sapere la vostra nei commenti da Mattia è tutto da Corner è tutto sempre a Forza Samp grazie